Oh cambia tutto, il governo fa retromarcia. Dall'apertura dei giorni scorsi a proposito dello spostamento al 31 dicembre della data del 25 novembre per la presentazione della CILAS e per poter mantenere il 110 anche nel 2023, ora il governo, boom! Il problema per il governo attualmente dichiara che è solo la cessione dei crediti bloccati. Quello bisogna risolvere. Non il fatto che il superbonus passa dal 110 al 90 che comporta solo un piccolo esborso da parte di chi deve fare i lavori. Ma è la cessione del credito, chissà che quando pubblicherò questo video non cambierà tutto di nuovo.